Il forte vento e la pioggia battenti che hanno accompagnato la scorsa notte in Bergamasca sono state la causa di frane e allagamenti che per diverse ore hanno impegnato i vigili del fuoco, che con l'ausilio di idrovore hanno proceduto, come è successo questa mattina, ad aspirare la quantità d'acqua formatasi in via Guizzetti, nel sottopasso che collega la frazione San Lorenzo di Rovetta, conclusone. La preannunciata perturbazione si è manifestata con forte intensità anche in diverse altre zone della provincia, come ad esempio a Caprino, dove le piogge abbondanti hanno causato una frana sulla strada che collega Caprino con Torre De Busi. Si tratta di un fronte di 10 metri che è franato sulla strada con detriti e terriccio per 20 metri cubi, mentre una segnalazione di intervento faceva scattare l'allarme subito rientrato per un allagamento al distributore di benzina a Rovetta. Con il prossimo fine settimana avrà inizio un periodo instabile e fresco, che ci accompagnerà fino a ferragosto, sempre con possibili rovesce temporali, alternati ad alcune schiarite, purtroppo solo passeggere. La fase più acuta delle precipitazioni è prevista dalla serata di questo giovedì fino alle 12 di venerdì 13 agosto.